...e quindi è un onore dirvi che il bimbo che è forte in grembo si chiamerà Attila e io al suo pensiero che il suo figlio si chiami Attila, io me lo immagino già questo bambino al nido, a 2-3 anni, che dice avete valutato quanto costano i giocattoli in questo nido, allora incidono per il 12% su quello che è il costo annuale del nido e tra l'altro hanno un ammortamento di circa 3 anni, non sono nemmeno riciclabili, quindi chiedo di venire subito a intervenire su questa questione, avete già capito? Sto parlando della meravigliosa Barbara Letty! Buonasera, buonasera a tutti e grazie, siete aria, grazie, grazie davvero. Bene, allora l'incontro di quest'anno è sull'Italia che vogliamo, quello per cui noi lavoriamo ormai da due anni e mezzo con il vostro supporto, con i vostri suggerimenti e con tutto il percorso che si è fatto ormai da qualche anno, da imitato al movimento. Per arrivare all'Italia che vogliamo però è giusto precisare, anzi doveroso precisare, quello da cui veniamo, veniamo da vent'anni di governi che non hanno fatto altro che alzare tasse e spesa improduttiva, mortificando quella per gli investimenti e allora si muore quando piove, si blocca un paese quando piove, bisogna andare con i canotti a salvare la gente come è successo l'altro giorno a Taranto, è ancora più grave, si muore andando a scuola. Ecco cosa significa quando non ci sono più di investimenti, significa anche mortificare la ricerca, l'istruzione, quindi il futuro. E allora il giovane Renzi come si sta comportando? In realtà nello stesso identica maniera. E adesso in questi giorni stiamo assistendo al sacro trio, abbiamo Padoan, Renzi e Squinzi che parlano a rete unificate in mondo e visione di quest'Italia con il segno più. No, non siete pazzi fuori, non siete fuori dal mondo voi a non vedere questo segno più. In realtà il segno più non c'è, non c'è per niente, è tutto drogato, perché la verità sta nei conti, sta nei documenti di programmazione, sta nella legge di stabilità che sta per essere parata, che è ancora recessiva e punitiva, soprattutto per chi ha meno. Perché quello che dicono i numeri ci dicono che ci saranno da qui al 2019 100 miliardi di nuove tasse, 40 miliardi di nuove spese e invece gli investimenti ancora mortificati. E allora ci condannano agli zero virgola e ci condannano ancora a fermare un paese quando piove e poi definiscono le bombe d'acqua. Non è vero, bisogna risolvergli i problemi. E allora? E allora? E allora? Fate tranquilli. Quello che noi invece vorremmo fare, quello che noi lavoriamo per poter ottenere è avere un paese serio, autorevole e deve cominciare davvero da una revisione della spesa, davvero dai tagli di quei rami secchi che opprimono questo paese. E sono i vari finanziamenti pubblici ai partiti, per cui in 20 giorni si ricaricano una carta di 45 milioni di euro. Quelli devono essere tagliati, le partecipate è un grosso, grossissimo inganno. Nel 2007 già Prodi fa una legge per avere di abolire le partecipate quelle inutili, quelle dove ci sono questi consigli di amministrazione costosissimi, che non hanno operai perché non fanno nulla. E allora poi grande dimenticatoio, letta la riattiva e dentro quest'anno dovevano chiudere centinaia di partecipate per legge Renzi ha bloccato il provvedimento con la riforma della pubblica amministrazione Madia per ancora allungare i tempi e ancora allungare quello che è il provo di questo spreco a favore dei partiti per mantenere i bacini elettorali. Questo fanno tutti i provvedimenti, sono solo spotto da campagna elettorale. Ora 5 miliardi tra l'abolizione della Tasi, dell'Imo e dell'Imo agricola. Perché? Perché si deve andare all'amministrativa, ma non c'è niente di strutturale, perché a fronte di questo ci sono tagli feroci, ma non quelli che si dovrebbero fare, ma quelli a carico dei cittadini. Tra quest'anno e l'anno prossimo solo dalla sanità prenderanno quasi 4 miliardi, 4 miliardi, ma non basta. Alle regioni taglieranno quest'anno 1 miliardo e 8 e poi 4 miliardi e poi 5 miliardi. Negli anni questi tagli vengono tutti poi a rosicchiare tutto quello che è il nostro benessere che ormai non c'è più e non basta perché taglieranno ancora anche i comuni. Non è vero che trasferiranno l'intero importo di quanto non si paga più di Tasi. E allora le porte dei servizi sociali rimarranno blindate. È un Paese che non ha futuro, che non guarda avanti. E allora se solo ascoltassero i nostri suggerimenti non avremmo più una pressione fiscale così asfissiante a carico di piccoli e micro imprenditori. perché con noi si potrebbe fare davvero una lotta all'evasione seria. Perché ogni volta che esce l'agenzia delle entrate o la guardia di finanza per l'1,7% va a banche ed assicurazioni, per il 90% va alle micro imprese. Basta la caccia agli scontrini perché non è così che si fa la lotta all'evasione. Non sono i piccoli che vagano. I piccoli. Noi e noi non diciamo che siamo a favore dell'evasione, ma non ce la fanno più. Solo nel 2014 ci sono stati 9 miliardi di rate Equitalia non pagate. Ma io sto parlando di quelle persone che sono andati a parlare con i funzionari di Equitalia. Hanno portato i loro redditi. Sono riusciti ad attivare una sorta di rateazione. Ma poi è arrivata la quarta, quinta rata e poi per otto volte non sono riusciti a pagare. Non sono evasori. Andiamo dove ci sono i soldi. Andiamo alle banche, alle assicurazioni. Andiamo sulla criminalità organizzata. Facciamo una legge anticorruzione vera, seria. Perché altrimenti non ci ritroviamo. Signori canzieri che nascono e cuoiono. Quello è il debito pubblico che abbiamo tutti noi in carico purtroppo e lo stiamo trasferendo ai nostri figli. Poi dice che ha bloccato le clausole di Salve Guardia. No! Perché una cosa è bloccare e prendere lo stacolo e porcelo dietro. Non è così. L'ha allungato, l'ha portato in avanti. Proprio perché lui è partito l'anno scorso dicendo che aveva 32 miliardi di tagli già fatti, di sprechi già trovati. Ma siccome non è vero, siccome non li fa perché non ha le mani libere per farlo questo, non lo può fare. Allora questo muro che abbiamo di miliardi che arriveranno ad oltre 70 miliardi di aumenti di IVA ed accise, che poteva essere alto un metro, adesso è diventato di un metro e mezzo. E poi arriveremo a non riuscire più ad oltrepassarlo. E allora per una volta sola devo dare ragione al Cavaliere Berlusconi. Perché è vero che Renzi lo copia e purtroppo seguendo questo percorso arriveremo ad avere un nuovo Monti che allora ci farà scardinare quel muro a colpi di lacrime e sangue di nuovo. E allora ritornando al nostro progetto dobbiamo essere seri, far ripartire gli investimenti, quegli investimenti che guardano al futuro e che creano ricchezza facendoli. Se io sistemo le scuole, sistemo le strade, sistemo le ferrovie, io mi ritrovo una cosa preziosissima dopo, una ricchezza dopo e non debito pubblico e produttivo. Se io abbasso la pressione fiscale a piccole e medie imprese, loro avranno dei soldi in più che potranno investire e quindi creare anche occupazione solida e non dopata. Perché quella che c'è ora è drogata dagli incentivi. Ma anche in questo, ve lo ricordate la decontribuzione l'anno scorso, era davvero, finalmente avevamo trovato la grande soluzione. Ora agli imprenditori daremo fino a 24.000 euro di sgravi per chi assume. Benissimo. Però non ci avevano detto che c'era già un'altra legge che costava più o meno uguale e dava più o meno le stesse risorse agli imprenditori. Però quest'anno dice io non ce la posso più far a darti 24.000 euro, te le posso dare solo 6.500. Allora abbiamo eliminato una norma strutturale che ce ne dava circa 20 per avere un contentino per un anno che ha chiesto con l'industria e per poi mandarle tutti a casa quest'anno perché ormai l'incentivo non c'è più. Quindi ormai è tutta una falsità, è tutto un gioco delle tre quarte. Così come ha fatto con il cosiddetto regime dei minimi? Era del 5%, poi lo porta al 15%, poi fa una concessione e lo riporta al 5%. Invece no. Noi vogliamo davvero quelle riforme strutturali, non la finta aborizione del Senato o la finta aborizione delle province o la finta vendita delle auto blu o la finta aborizione del finanziamento pubblico ai partiti. Prendiamo queste piccole microimprese che sono il nostro tessuto, abbassiamo le tasse di 7-8 punti in maniera significativa perché noi siamo sicuri che facendo questo il gettito fiscale le entrate per le casse dello Stato aumenteranno, non è vero che diminuiranno. L'italiano non è un truffatore, non è un evasore, si è messo nelle condizioni di poter pagare, lo fa, lo fa e lavora bene e lavora meglio. Non è vero che aspetta l'assistenzialismo e siccome noi partiamo al futuro e sappiamo che prima o poi accadrà, già sta accadendo in tantissimi paesi. Voi guardate negli Stati Uniti, ad esempio prima l'incidenza della manifattura era del 22% e in passata al 10 del 2030 già si stima che sarà al 3%. Il lavoro umano sarà sempre meno necessario e allora signori noi che vogliamo guardare al futuro è chiaro che guardiamo al reso di cittadinanza perché ci vuole uno strumento di assistenza e di accompagnamento, riqualificazione e riformazione del cittadino che non deve rimanere indietro, deve stare al passo con il futuro e non guardare ancora al carbone, al passato, all'ilva. Basta! Bisogna guardare oltre ma davvero e dare la possibilità a questo paese di liberarsi da questa cappa. Purtroppo però questo governo non ne ha le intenzioni ma noi insisteremo comunque e grazie a voi che state qui fuori, che state qui ad ascoltarci, che state fuori a sostenerci e che li costringe a dire bugie ma voi poi con il passaparola direte la verità e purtroppo vi scontrerete anche con quello che sto dicendo? Allora arriveremo finalmente al governo e avremo questa Italia 5 Stelle libera, efficiente, efficace, con una pubblica amministrazione che non viene marcorizzata anche da queste lemosina perché i contratti anche pubblici vengono aumentati se no con 200 milioni, significa che si danno 5 euro di mancia. Allora tagliamo anche lì i rami secchi, quello che non serve si elimina ma per il resto deve concorrere al benessere di questo paese, non essere un peso. Ma si deve fare questo soltanto essendo seri. Lo ripeterò all'infinito perché quello che noi non vediamo è proprio questo, non solo l'onestà di voler fare ma anche la serietà di parlare agli italiani sul serio di quello che si fa. Voi siete stati veramente aria in questo incontro. Incontrarvi significa avere conferma e consapevolezza che quello che facciamo non è sbagliato. Molto spesso io ho incontrato adesso delle persone che mi hanno detto è vero Barbara, quello che dicevi tu poi alla fine era vero. Per noi quella è la più grossa, grande conferma. È quello che ci aspettiamo da voi perché noi invece studiamo e vogliamo essere seri nei vostri riguardi e dirvi che le difficoltà che incontreremo purtroppo sono dure ma ce la possiamo fare e l'idea è forte e c'è. Io vi ringrazio infinitamente. Sono onorata di aver preceduto un grande uomo che adesso vi presenterà a Max. Vi ringrazio infinitamente. Voi siete, molto spesso voi siete nei nostri discorsi di fuori. Fuori hanno detto, fuori dicono, fuori fanno, fuori fanno i banchetti. Andiamo fuori ad ascoltare un po' i cittadini. Lo facciamo spesso e per incontrarsi tutti insieme qua è molto diverso. Vi ringrazio per essere venuti qua ad averci aspettato e ascoltato. Grazie.